Ciao e benvenuto in questo nuovo video. Oggi scopriremo insieme le caratteristiche di una razza molto amata, socievole ed intelligente. Oggi vi presentiamo il Barbone. Prima di iniziare però ricordati di iscriverti al canale e di lasciare un bel like. In questo modo aiuterai il canale a crescere e te ne saremo davvero grati. Il Barbone è una razza dalle origini ancora oggi poco certe, ma l'ipotesi più accreditata è che sia nato o in Germania o in Francia. In origine il Barbone era un cane da riporto, soprattutto di selvaggina. Proprio per questo è nata l'abitudine di radere il tronco e le zampe. Per questa tosatura il cane poteva nuotare meglio. Nel Rinascimento il Barbone di taglia più piccola era già il compagno di tante nobile donne, come testimoniato in molti dipinti. Nel XIX secolo invece la sua facilità d'addestramento lo fece diventare protagonista dei circhi francesi. La sua taglia è estremamente variabile, che va dal Barbone toy fino al Barbone gigante, in ordine grande, medio, nano e toy. L'altezza garrese prevista dallo standard della razza va dai 24 cm ai 60 cm, sia per i maschi che per le femmine. Allo stesso modo il peso varia dai 10 ai 22 kg, sempre rispetto alla varietà della sua taglia. Per quanto riguarda il pelo è lungo, folto riccio e robusto. Tra le colorazioni ammesse dallo standard troviamo il fulvo, il bianco, grigio, nero, albicocca, marrone e arancio. Inoltre tende a perdere davvero poco pelo. È un cane estremamente adatto alla vita domestica, soprattutto nelle taglie più piccole. L'importante è che faccia regolarmente delle passeggiate per sgranchirsi le gambe e non rischiare di farlo diventare pigro. Comunque può adattarsi anche ad una casa con giardino. Il carattere del Barbone è quello di un cane molto affettuoso e vivace ed è molto intelligente. Ha un forte legame con la propria famiglia, di cui amerà tanto la compagnia. Ogni volta che rientrerete a casa vi accoglierà sempre scodinzolando. È consigliato come primo cane, si adatta perfettamente anche al proprietario meno esperto. Se sei infatti alle prime armi non avrai problemi con lui. Sarà facilissimo ad estrarlo ed è un cane molto ubbidiente che adora con piacere il padrone. È un perfetto compagno di giochi per bambini di tutte le età. Sarà giocoso, dolce ma anche protettivo. Sono molto socievoli anche in presenza di estranei e di altri cani, con i quali tendono a legare facilmente. Inoltre se hai attualmente altri animali è importante che tu sappia che questa razza non creerà particolari problemi. Il barbone vive mediamente 14 anni circa, le varietà più piccole e anche qualche anno in più. È un cane molto robusto che gode di un'ottima salute generale. L'unica sua debolezza sono le orecchie. Hanno bisogno di una regolare pulizia, altrimenti rischia di prendere continue infezioni. Nel video di oggi hai scoperto le caratteristiche e qualche curiosità su una razza dolce, intelligente e simpatica come quella del barbone. Prima di scegliere il tuo amico a quattro zampe, vi invitiamo caldamente ad informarvi sulla storia e sulle esigenze di questa razza e di rivolgervi ad un addestratore che saprà sicuramente consigliarvi al meglio. Se questo video ti è piaciuto, ricordati di iscriverti al canale e commenta questo video scrivendo la prossima razza che vorresti vedere. Saremo felici di pubblicare altri video sull'argomento. Per oggi è tutto, se hai imparato qualcosa di nuovo e ti è piaciuto questo video, lascia un bel mi piace per supportare il canale, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche per restare sempre aggiornato per le prossime pubblicazioni. Da Mondocani è tutto, ci vediamo nel prossimo episodio, ciao!